strumenti e impostazioni azioni collettive motorino regole no motorino non c'è allora tutti voi siete lì che mi dite ma io devo andare in ferie come faccio il cliente mi ha chiesto di spegnere la campagna il 13 d'agosto e di reattivarla al 18 compagnia danzante strumenti impostazioni azioni collettive regole dove dovete impostare una regola di attivazione o spegnimento della campagna in funzione del fatto che la campagna accesa spenta in questo momento quindi ipotizziamo che io debba spegnere una campagna il 13 azione su campagne quindi metti in pausa quella campagna l'unico dato sul quale generalmente impazzite sempre è quello prendo i dati da quando che in realtà non vuol dire un niente semplicemente quel tipo di parametro si applica ad altri tipi di regole perché fondamentalmente calcola le regole basandosi per esempio su spegne la campagna quando le impression sono nel nostro caso invece non occorre quel tipo di elemento io per convenzione metto sempre i dati di ieri cioè come se la campagna fa come se la regola dicesse guarda i dati rispetto a ieri rispetto a come oggi è attiva però è un dato che io metto così tanto per inserirlo perché in realtà non conta niente la regola si applica nel momento in cui la campagna effettivamente in pausa o attiva viene messa in pausa o è attiva cioè se la campagna è già attiva non succede niente se la campagna è già in pausa non succede niente la campagna viene messa in pausa se è attiva e viene attivata se è in pausa ad ogni modo proprio per evitare questo fatevi comunque un check con l'email e quindi chiedete alla regola di mandarvi l'email in qualsiasi caso non solo in caso di segnalazione modifiche o errori comunque semplicissimo strumenti impostazioni azioni collettive regole alla prossima